Nel cuore delle terre sicane a Sambuca di Sicilia, tra le tappe obbligatorie per i chiamanti del vino e della natura, l'azienda agricola della famiglia di Giovanna, una delle più antiche famiglie del vino in Sicilia, un'azienda che guarda al futuro salvaguardando le tradizioni e che porta avanti da più di vent'anni un progetto di agricoltura biologica nel rispetto dell'ambiente. Qui siamo in montagna, nella riserva naturale di Monte Genuardo, dove si trovano due dei vignati di famiglia storica e la cantina dove tutti i nostri vini sono vinificati. I vignati qui, San Giacomo e Fiumenello, cominciano a 620 metri e continuano fino a 850 metri. Dove si trovano i vignati di Chardonnay, di Nero Ravola che utilizziamo per il rosato e anche un nuovo vignato di Grillo che si trova a 850 metri. Noi abbiamo un'offerta articolata su tre linee, la Gerbino, la Vurria e la Helios. Sono vini sia bianchi che rossi, abbiamo anche due rosati, internazionali ed autoctoni. Per citare gli autoctoni, noi abbiamo da alcuni anni puntato su Grillo, Nero Ravola e Nerello Mascalese. Se invece facciamo attenzione agli internazionali, allora per i bianchi innanzitutto lo Chardonnay e per i rossi ottimi risultati abbiamo con Sirac, Cabernet Sauvignon e Merlot. Dal 1997 i nostri vigneti sono certificati bio, ma non soltanto i nostri. Sì, questa è una tra le prime aziende che ha visto nel biologico una grande opportunità. All'inizio ci ha scommesso, io ricordo quando andavo tanti anni fa in giro a proporre le mie bottiglie e già dicevo, vedete che si tratta di un vino certificato bio, beh l'accoglienza non era incredibilmente positiva. Qualcuno mi diceva addirittura, sì ok la farmacia sta più avanti, proponino lì. Oggi è del tutto diverso, oggi l'attenzione per il biologico, per il naturale, per il sostenibile è sicuramente molto alta. Tutto il territorio, il territorio delle Teresicane è un territorio che si connota, che si contraddistingue rispetto a tanti altri proprio per questa attenzione al bio. Abbiamo una grande fortuna, ci troviamo all'interno di questa meravigliosa riserva, Parco Naturale di Monte Germardo e ovviamente l'epil di questo territorio è grande per tutti gli enoturisti, ma non solo. Tutti quelli che vogliono trascorrere una bella giornata in montagna, in una zona meravigliosamente bella perché c'è tutto. Qui non c'è il verde, qui ci sono mille sfumature di verde. Ecco, questo colpisce, questo attrae e questo è un grandissimo aiuto nel momento in cui vogliamo proporre la nostra azienda ai viaggiatori che amano la Sicilia.